Buongiorno a tutti, allora la scorsa volta abbiamo visto il periodo artistico del realismo francese e poi abbiamo visto i macchiaioli italiani, quindi ci siamo spostati diciamo dalla Francia all'Italia e oggi ritorniamo invece nell'ambito francese. La Francia che abbiamo visto già a partire dall'epoca del neoclassicismo diventa un po' il centro dell'arte, mentre per secoli era stato l'Italia nel periodo per esempio rinascimentale e quello barocco, invece alla fine del 700 e nell'800 il centro culturale, il centro artistico è rappresentato soprattutto da Parigi, quindi dalla Francia. Ed è proprio qui che tra il 1860 e il 1870 inizia ad affermarsi un movimento artistico molto importante, sicuramente molto conosciuto, che è quello dell'impressionismo, che ha influenzato profondamente l'arte successiva e anche ha rotto i canoni dell'arte tradizionale, quindi si è presentato fin da subito come un movimento di rottura, un movimento assolutamente diverso da tutto quello che c'era stato fino a quel momento. e l'impressionismo come si sviluppa in Francia tra il 1860 e 1870, la prima esposizione di opere impressioniste è del 1874 presso lo studio del fotografo Nadar, una famosa esposizione a cui partecipò anche quest'opera Impression Soleil Levin, che vedete in foto, e parteciparono quindi molte opere di questi vittori impressionisti e esposero in questo atelier del fotografo Nadar perché erano stati rifiutati dal Salon, che era il luogo di esposizione tradizionale e principale di Parigi. Quindi anche con un intento polemico decisero di organizzare una mostra alternativa e furono poi ribattezzati sprezzantemente dalla critica impressionisti, proprio prendendo spunto dal nome di quest'opera di Monet, Impression, cioè impressione, Soleil Levin, il sole che sorge, il sorgere del sole, e proprio a partire da questo titolo di quest'opera furono ribattezzati impressionisti. Poi i pittori di questo movimento decisero di fare propria la definizione, cioè di autochiamarsi in questo modo, perché effettivamente ritenevano che rappresentasse bene quello che loro volevano esprimere all'interno delle loro opere. Che cosa volevano esprimere? Gli impressionisti volevano catturare soprattutto l'impressione, il momento, quindi volevano rappresentare soprattutto il paesaggio, ma anche la vita quotidiana della borghesia e cogliere l'essenza dell'attimo, del momento. Quindi c'è l'importanza che viene data al paesaggio che diventa sicuramente centrale e soprattutto con delle pennellate molto rapide vengono rappresentati tutte le impressioni, gli effetti cromatici, cioè di luce, di colore, che si presentano all'occhio dell'osservatore in quel determinato momento. E la novità, oltre chiaramente come vedremo poi bene affrontando le varie opere, la novità oltre ad essere questa della, diciamo, di catturare l'impressione del momento, è sicuramente data dal modo in cui dipingono questi artisti. Questi artisti dipingono infatti in plenaire, che significa in francese all'aria aperta, cioè invece di dipingere nello studio come si faceva solitamente, quindi invece di ritirarsi nel proprio studio a dipingere per giorni e per mesi, abbiamo invece una pittura all'aria aperta, quindi per la prima volta abbiamo la pittura en plenaire, all'aria aperta, quindi direttamente gli artisti vanno sul posto, cioè sul luogo in cui devono dipingere il paesaggio e realizzano la tela in poche ore, quindi anche per questo le pennellate sono rapide, ma anche per dare l'effetto, diciamo, dell'impressione del paesaggio, quindi per due motivi, sia per completare l'opera prima che faccia buio, prima che appunto finisca la giornata e quindi in poche ore viene completata l'opera, ma anche perché si vuole catturare l'essenza del momento, dell'effetto di luce in quel determinato istante, quindi importante soprattutto qui sono gli effetti del paesaggio, della luce, del colore e quindi si vuole catturare appunto questo effetto e la pittura en plenaire fu resa possibile grazie all'invenzione dei colori in tubetto, perché prima bisognava comunque attraversare un processo piuttosto lungo di preparazione dei colori, mescolando i vari pigmenti nello studio, quindi c'erano tutti i disegni preparatori, invece in questo caso la maggior parte degli impressionisti non utilizza dei disegni preparatori, ma dipinge direttamente sulla tela, quindi all'area aperta en plenaire, quindi abbiamo delle innovazioni profonde che cambiano completamente il modo di concepire l'arte, non tanto e non solo nella scelta dei soggetti, ma soprattutto nel modo in cui questi soggetti vengono rappresentati. E vediamo adesso questo quadro di Claude Monet, che è stato il più importante artista di questa corrente dell'impressionismo e è considerato quest'opera il manifesto dell'impressionismo, quindi il quadro che più di tutti rappresenta questa corrente artistica, venne dipinto nel 1872 e si trova al musee Marmottin Monet a Parigi, quindi si trova a Parigi, un museo dedicato proprio a Monet. Abbiamo in particolare quest'opera che rappresenta un porto, quindi il porto di Les Havres, che è una cittadina sulla Manica in Francia e Monet dipinse questo porto guardandolo dalla finestra della sua abitazione, quindi poteva osservare, poteva godere di una posizione sicuramente privilegiata da cui poteva dipingere questo porto. Abbiamo la rappresentazione del porto in un determinato momento del giorno, che è il momento in cui sta sorgendo il sole, quindi all'alba. Abbiamo la rappresentazione di alcune imbarcazioni, quindi vediamo una, due e tre, tre barche con dei personaggi che stanno remando e l'effetto chiaramente del remare provoca delle increspature sull'acqua che ben sono rese dal pennello di Monet e poi possiamo notare che c'è anche una nebbia, una certa foschia che avvolge gli elementi del paesaggio che sono in lontananza e che sono sostanzialmente questi pennoni delle navi, delle altre imbarcazioni e poi possiamo notare la presenza anche di alcune impalcature, di alcune attrezzature meccaniche che servono per il trasporto delle merci e però si confondono con lo sfondo, con il cielo perché sono avvolte dalla nebbia, quindi per rappresentare questo effetto di nebbia Monet fa in modo che vengano rappresentati in modo piuttosto sfumato, quindi appena percepibili all'interno dell'opera, quindi appena visibili. E poi abbiamo questo sole che si presenta come un disco rosso e in particolare c'è il riverbero proprio dei raggi solari sull'acqua, vedete qui che c'è proprio tutta una scia rossa che proprio deriva da questo sole che appunto provoca il riflesso sull'acqua e notiamo anche il cielo che sembra completamente fondersi con l'acqua, quindi abbiamo proprio un punto quasi indistinto per cui il cielo che è dato da elementi di colore rosso e da colori chiaramente sulle tonalità dell'azzurro si fonde con l'acqua e quasi non si riesce a capire qual è il confine fra il cielo e l'acqua, quindi abbiamo la vera protagonista di quest'opera che più che il porto in realtà è l'acqua che era particolarmente amata dai pittori impressionisti come fenomeno, come elemento naturale, perché consentiva di cogliere tutte le sfumature della luce, infatti qui a Monet interessa rappresentare proprio quel determinato momento in cui la luce si riflette nell'acqua quando il sole sorge sul porto, quindi abbiamo l'effetto proprio della luce che viene indagato in tutti i suoi aspetti, vedete appunto la scia rossastra del sole, poi possiamo notare gli effetti dell'acqua increspata che stanno solcando le varie barche e poi abbiamo questo cielo che è dato soprattutto da tonalità tendenti all'azzurro ma anche tonalità tendenti al rosso, si crea anche un contrasto di colori fra gli elementi rossicci, arancioni e quelli invece più di colore azzurro, tonalità fredde e quindi ricordiamo anche che Monet vuole rappresentare questo porto così come viene visto al risveglio e quindi il fatto che è tutto un po' confuso, quasi abbozzato, è voluto perché si vuole anche rappresentare un po' la percezione di questo porto quando una persona si sveglia che vede tutto un po' abbagliato dalla luce del sole, vede tutto in modo un po' confuso, come c'è anche questo effetto importante che viene introdotto. Quindi abbiamo quest'opera che è importantissima perché ha segnato proprio l'impressionismo anche proprio banalmente dal titolo perché da questo titolo viene appunto il termine impressionismo che definisce questo movimento artistico. Quest'opera è considerata il manifesto proprio dell'impressionismo, venne realizzata nel 1872 da Claude Monet, qui vediamo anche la firma, Claude Monet 72, l'artista si è anche firmato all'interno di quest'opera. Vediamo sempre su questa linea altre opere di Monet, purtroppo non potremo soffermarci su molte opere di Monet perché dobbiamo vedere anche altri artisti, quindi ne vedremo solo poche, però ricordatevi che è stato comunque il più importante, probabilmente il più importante degli impressionisti, poi in realtà sono stati molto importanti quasi tutti i pittori dell'impressionismo, però comunque Monet è stato un po' diciamo colui a cui ha associato proprio più brutti l'impressionismo. Vediamo un'altra delle sue opere che è La Passeggiata, di poco successiva, è del 1875 ed è conservata a Washington, quindi negli Stati Uniti. Quest'opera rappresenta innanzitutto una scena di vita quotidiana, quindi abbiamo un altro soggetto diverso, cioè mentre prima aveva rappresentato un paesaggio, qui rappresenta sì un paesaggio, ma anche una scena di vita quotidiana con delle figure umane. E chi sono questi personaggi? Questi personaggi sono la moglie di Monet, Camille e suo figlio, il loro figlio, quindi abbiamo la rappresentazione di questi due personaggi che si trovano all'aperto ad Argentoie, che era una località francese dove spesso soggiornavano e in particolare abbiamo la rappresentazione di una giornata estiva, quindi capiamo che è una giornata estiva dal fatto che c'è questa luce proprio quasi accecante che illumina il prato, quindi vediamo appunto questi riflessi proprio della luce che rendono il cielo particolarmente chiaro, poi possiamo notare anche si riverbera sul prato, quindi la luce accecante e anche il fatto che c'è questo parasole, questo ombrello che protegge dal sole la donna, ci fanno capire che è una giornata estiva e che quindi questi due personaggi si trovano sotto i raggi cocenti del sole. Notiamo che Monet è molto attento a rappresentare anche i fenomeni atmosferici. Vediamo che le pennellate sono molto rapide e spesso sono date da accostamenti di colore poco definiti, quindi in realtà l'opera acquista un vero e proprio significato quando la si guarda nell'insieme, questa è una caratteristica di molte opere impressioniste che se noi ci soffermiamo sul singolo dettaglio di colore non assume un particolare significato, ma se poi invece guardiamo l'opera nell'insieme allora acquista un altro significato, una visione di insieme più aderente alla realtà. Notiamo anche il vento che viene rappresentato da Monet attraverso il movimento dell'abito della donna, quindi abbiamo l'abito della donna che è mosso dal vento così come i capelli della donna e poi qui abbiamo il figlio rappresentato invece in secondo piano e anche le nuvole sembrano proprio avere un movimento, quindi abbiamo proprio l'impressione di una giornata estiva con il vento, il cielo azzurro punteggiato di nuvole, quindi abbiamo appunto questa caratteristica e notiamo anche la prospettiva che viene utilizzata da Monet all'interno di quest'opera che è una prospettiva molto particolare, una prospettiva da sotto in su, perché vedete che è come se l'artista stesse, noi quando guardiamo questo quadro, è come se lo stessimo osservando dal basso, quindi è come se questi due personaggi si trovassero su una collina, su un'altura e questo serve a dare maggior risalto ai protagonisti dell'opera, quindi adotta Monet una particolare visione, una particolare prospettiva da sotto in su. Monet, oltre a quest'opera La Passeggiata e a Impressione Soleil Lebas, è stato famoso per aver realizzato molte opere dedicate a temi naturali e all'osservazione dei fenomeni della luce. Conosciamo, forse ne avete sentito parlare, del ciclo di dipinti dedicati alle minfei che però non vediamo, mentre invece vediamo il ciclo di opere dedicate alla cattedrale di Rouen in Francia, che vuole analizzare, da parte di Monet, vuole analizzare le diverse tonalità, i diversi effetti di luce che si riverberano, che si riflettono sulla cattedrale di Rouen in diverse ore della giornata. Quindi vediamo adesso alcune opere di questa serie, è una serie di dipinti che venne realizzata negli anni 90 dell'Ottocento, in diversi anni, quindi sono varie opere, un ciclo di opere, ne vediamo solo alcune, chiaramente, ne realizzò infatti più di 30 dedicate allo stesso tema, proprio per osservare i cambiamenti della luce, per testimoniare questi cambiamenti luminosi e vediamo quindi adesso alcune di queste opere della cattedrale. Allora, questa è la cattedrale, questo dipinto venne realizzato nel 1894, come testimoniato dalla data e dalla firma Clormone, rappresenta la cattedrale di questa città francese e in particolare possiamo notare che il momento in cui viene scelto da Monet è le prime luci dell'alba, quindi questa è la cattedrale come si presenta all'occhio dell'artista all'alba, quando, vedete, è illuminata dai primi raggi di sole, quindi abbiamo delle sfumature dorate qui ai lati, che sono proprio una rappresentazione dei raggi di sole che il sole sta sorgendo, quindi si illuminano questi angoli della cattedrale e però la luce qui è ancora poco presente, cioè i colori sono molto freddi, vediamo che i colori tendono al blu, al viola, all'azzurro, quindi abbiamo questi colori di questo tipo, perché si vuole rappresentare una cattedrale che ancora non è completamente illuminata dai raggi del sole e notiamo che è quasi immersa nel buio ancora, quindi è astento e distinguibile il suo contorno, vedete che è proprio data tutta dal colore anche, questa è una caratteristica del modo di dipingere di Monet, cioè il fatto che non ci sono dei contorni ben definiti, ma vediamo appunto le pennellate rapide, quasi delle macchie di colore, però in realtà sono filamenti più che altro di colore, pennellate rapide e notiamo che Monet rappresenta appunto la cattedrale in questo particolare momento della giornata. E poi però abbiamo anche un'altra opera, un'altra opera che fa parte di questa serie, in cui rappresenta la cattedrale in un altro momento, vedete che è sempre lo stesso soggetto, la rappresenta in un altro momento della giornata che è il momento del mezzogiorno, quando il sole si trova allo zenith, quando il sole si trova nel punto più alto e illumina la cattedrale. Vedete che qui i colori sono completamente diversi, abbiamo infatti un colore molto più chiari, molto più caldi, tendenti al giallo e anche però c'è un residuo di azzurro e notiamo anche del viola e azzurrino nella parte soprattutto inferiore ai lati per rappresentare gli effetti dell'ombra, quindi chiaramente c'è il sole che illumina la cattedrale, ma comunque chiaramente se c'è il sole ci deve essere anche l'ombra, quindi abbiamo anche la rappresentazione dei reparti della cattedrale che sono in ombra. Quindi questa è la cattedrale a mezzogiorno, la cattedrale di Rouen a mezzogiorno. E poi abbiamo invece un'altra opera di questo ciclo che la rappresenta al tramonto e qui è molto particolare l'uso del colore, qui vedete un'intensa tonalità di giallo-arancione, quasi dorata, la cattedrale sembra proprio un faro dorato quasi, quindi è proprio immersa nella luce, però vediamo anche le ombre che iniziano ad avanzare e quindi il viola nella parte inferiore dell'edificio, nella base, quindi abbiamo il viola, cioè che sarebbe l'ombra, che avanza sulla superficie della cattedrale, mentre la parte superiore è ancora illuminata da questa luce del tramonto, che è una luce particolare, una luce più arancione rispetto a quando il sole è allo zenith, quindi una luce più tendente al dorato e per questo motivo abbiamo la cattedrale che viene rappresentata con queste sfumature di giallo, di arancione e d'oro per rappresentare proprio i riflessi del tramonto che si specchiano sulle sue pareti e però c'è anche l'ombra che avanza, quindi nella parte inferiore viene rappresentata anche la parte dell'ombra. Questo è Claude Monet, uno dei più importanti artisti dell'ottocento francese dell'impressionismo e vediamo adesso altre opere di altri artisti, ecco purtroppo non mi sono potuta soffermare molto su Monet perché sono le ultime lezioni, quindi volevo almeno concludere il fenomeno dell'impressionismo. Abbiamo in seguito altri artisti importanti come per esempio Renoir. Ballo al Moulin della Galette, Renoir è stato un importantissimo artista del movimento impressionista, quindi stiamo parlando sempre della stessa corrente e realizza quest'opera che invece rappresenta un'altra tematica sempre diciamo affrontata dagli impressionisti e questa tematica è la tematica, questo dipinto sempre realizzato tra gli anni 60 e gli anni 70 dell'ottocento, rappresenta un'altra tematica che è quella della vita quotidiana, le abitudini della borghesia, quindi vengono indagate scene di vita quotidiana, questo soprattutto da parte di Renoir. Vediamo che la scena rappresentata è il ballo in un locale, Moulin della Galette, chiamato così perché Moulin, perché Molino, cioè nel senso che c'era un locale che era stato ricavato da un molino abbandonato e poi Galette è un riferimento ad un tipo di pietanza, quindi un dolce, la Galette, quindi abbiamo questo riferimento. il ballo, quindi in questo locale che si trovava a Montmartre e era particolarmente frequentato dagli artisti, quindi anche dai pittori chiaramente, dallo stesso Renoir, quindi lui rappresenta una scena di vita a cui aveva preso parte diciamo. E abbiamo in particolare la rappresentazione pittorica che è affollata di personaggi, vedete per esempio spicca questa coppia che è stretta in un ballo, poi possiamo notare due signorine che stanno conversando con un giovane di spalle e altri personaggi che sono seduti ad un tavolo e poi troviamo altri personaggi che sempre stanno o conversando o ballando all'interno di questo locale. Notiamo in particolare il modo in cui Renoir dipinge queste figure, sempre con delle pennellate molto rapide, poco nette, quindi abbiamo questi filamenti di colore che non hanno contorni definiti e questo è molto particolare, è sicuramente una caratteristica che consente di capire che Renoir è un impressionista e quindi abbiamo questi personaggi, quindi la scena di vita quotidiana che però viene rappresentata alla maniera degli impressionisti, cioè con queste pennellate molto rapide dai contorni quasi indefiniti e ricordiamo che assumono significato queste rappresentazioni proprio quando si guardano gli insieme, quindi quando si guarda proprio il colpo d'occhio da lontano, infatti questi quadri sono soprattutto nati per essere osservati da lontano e non troppo da vicino. Possiamo notare anche i riflessi di luce che vengono dall'alto, quindi probabilmente da l'illuminazione di questo locale e vediamo appunto queste luce che si riflette proprio sui personaggi, vedete qui queste macchie luminose, anche qui l'illuminazione della coppia che balla, quindi abbiamo proprio dei tratti di luminosità, di tonalità più chiare che servono proprio a riflettere il riverbero della luce sui vari clienti del locale, quindi abbiamo anche questo gioco di luminosità, di colori molto intenso che è una caratteristica proprio della pittura dell'impressionismo, cioè l'attenzione a questi fenomeni cromatici, cioè di colore di luce. Questo è Renoir e poi possiamo notare sempre di Renoir anche la colazione dei canottieri del 1882 che rappresenta una scena sempre di vita quotidiana della società frequentata da Renoir, infatti questi sono dei personaggi amici e conoscenti di Renoir, per esempio possiamo trovare Aline che diventerà sua moglie, quindi abbiamo anche un personaggio a lui caro e anche altre donne che erano in particolare, possiamo notare questa donna che era una modella dello stesso Renoir, quindi sono tutti conoscenti dell'artista, anche il pittore Caillebotte che si trova qui, che è questo personaggio, quindi era un amico di Renoir, quindi abbiamo la rappresentazione di personaggi a lui vicini in una scena di vita quotidiana. quindi a un ristorante, una veranda all'aperto, dove si ritrovavano spesso i canottieri, quindi appunto dopo le loro attività e in particolare abbiamo questa scena, questi personaggi che sono intenti a conversare fra loro, poi abbiamo questa donna appunto che farebbe Aline, la futura moglie di Renoir che teneva in mano un cagnolino, quindi sono tutti intenti diciamo a compiere dei gesti quotidiani o a conversare, poi c'è chi beve, qui abbiamo questo personaggio, altri che si scambiano sguardi, quindi abbiamo dei personaggi che sono impegnati nelle loro attività quotidiane e qui ancora una volta non manca l'effetto della luce che si evidenzia soprattutto nella rappresentazione di questa vegetazione alle spalle dei personaggi, vedete che è data proprio da tratti di colore molto rapidi e da accostamento di diverse tonalità di colore come per esempio il verde, il giallo, quindi un verde più chiaro e quindi abbiamo ancora una volta il gioco appunto della luce che filtra dall'esterno e che illumina questi personaggi che sono poi rappresentati tramite delle tonalità particolari di colore, tramite dei filamenti di colore, quindi tratti molto rapidi e colori poco netti. Notiamo anche un'altra novità di questo dipinto che in realtà era presente anche in questo dipinto, che è il taglio del dipinto, vedete che ci sono i contorni, la scena sembra proseguire oltre i contorni del quadro, vedete qui che abbiamo dei personaggi che sono proprio tagliati a metà, come se fosse una fotografia, anche qui vedete appunto questa figura che è proprio tagliata a metà, come se stessimo osservando una fotografia che non è riuscita a catturare tutti i personaggi. Questa è sicuramente una novità, è un'impostazione del quadro nuova, perché di solito venivano rappresentati chiaramente i personaggi in modo completo, quindi non c'era l'idea che il quadro proseguisse al di fuori della tela. Invece qui troviamo questo elemento di carattere innovativo, questa impostazione che viene chiamata impostazione fotografica, perché è come se fosse una fotografia, cioè una fotografia che appunto lascia intendere che continua la rappresentazione, quindi che la realtà è oltre, continua, non c'è solo quello che si vede nella fotografia. Quindi quest'idea delle figure tagliate a metà è il taglio fotografico che utilizza spesso Renoir all'interno delle sue opere e che è appunto un'innovazione di questa fattura impressionista. Vediamo adesso Manet, che non è che da non confondere con Manet, ma anche lui è un impressionista, Edouard Manet, Colazione sull'erba del 1863, è un'opera molto interessante perché anche qui viene rappresentata una scena di vita quotidiana, una scena di vita borghese, che è una scena di vita borghese, lo capiamo, dagli abiti di questi personaggi che indossano degli abiti a lui contemporanei, a Manet. In particolare possiamo notare qui una donna che intenta raccogliere delle piante da terra, quindi c'è una colazione sull'erba con questi personaggi che sono andati a fare un picnic, probabilmente, quindi abbiamo questa rappresentazione di personaggi all'aperto e però c'è questa donna che è molto particolare perché è completamente nuda e questo inserimento della donna nuda insieme ad un uomini vestiti invece in abiti borghesi ha suscitato, suscitò all'epoca, un grande scandalo, un grande scalpore perché chiaramente il nudo di per sé non era un elemento innovativo o che suscitava scandalo perché comunque fin dall'antichità, anche poi nel Rinascimento, venivano rappresentate figure nude, però quando venivano rappresentate figure nude, venivano rappresentate perché c'era un motivo, erano rappresentazioni di allegorie, rappresentazioni mitologiche o di personaggi dell'antichità, quindi c'era una spiegazione. Invece in questo caso Manet inserisce questa donna nuda senza un vero motivo, diciamo senza una spiegazione, non è un personaggio della mitologia dell'antichità che quindi viene rappresentato nudo proprio da tradizione, ma lui vuole inserire nuda in un modo anche un po' con questo atteggiamento un po' provocante, la donna si rivolge, vedete, guarda proprio verso di noi, verso l'osservatore con un sorriso enigmatico, quindi quasi a volerlo anche scandalizzare un po'. Questa donna non è soltanto rappresentata nuda mentre gli altri personaggi sono vestiti, ma è anche denudata perché non è nuda e basta, ma ha proprio gli abiti a terra, vedete che qua ci sono gli abiti abbandonati, quindi si è sfogliata, quindi è denudata, non è soltanto nuda. Vediamo infatti il cappellino, i suoi vestiti, probabilmente si è sfogliata per fare il bagno in un fiume, in un laghetto, quindi abbiamo questa rappresentazione di una donna che si è denudata per compiere un bagno all'aria aperta. Questo elemento fu asperamente criticato chiaramente dai contemporanei di Manet, ma in realtà quest'opera è rivoluzionaria proprio per questo e anche possiamo notare poi la rappresentazione del paesaggio con questa attenzione proprio al colore, quindi una attenzione che viene data per esempio agli effetti di luminosità nella rappresentazione delle diverse tonalità del colore del paesaggio, con diverse tonalità di verde, quindi il paesaggio che anche diventa un elemento importante, non soltanto questi personaggi che vengono rappresentati in primo piano, ma anche comunque il paesaggio è un elemento sicuramente importante di questa composizione. Quindi questa è colazione sull'erba di Manet 1863, conservata al Musee d'Orsay a Parigi, quindi abbiamo quest'opera molto importante. E poi vediamo un'altra opera significativa sempre di questo artista di Manet, che è il bar delle Folies Berger 1882, è una delle ultime opere di Manet prima della morte e segna un po' anche il suo testamento perché in qualche modo c'è un po' tutto quello che ha caratterizzato la sua pittura. Troviamo una scena di vita quotidiana in un locale, anche qui vedete come anche ritornano certi temi proprio negli artisti di questo periodo, anche Manet è sensibile alla rappresentazione di tematiche di scene di vita quotidiana e quindi anche i locali dove si riunivano i parigini in quel periodo, quindi abbiamo questo locale. E la rappresentazione di alcuni elementi importanti della sua pittura, vediamo innanzitutto la protagonista di quest'opera, che è questa donna, che è un personaggio realmente esistito, era una sorta di cameriera che si trovava in questo locale e che si chiamava Susonne, quindi è proprio un personaggio che esisteva e che Manet conosceva perché frequentava questo locale. Questo locale era però anche di dubbia fama, perché si diceva che si praticava anche la costituzione, quindi era un locale frequentato per le più da artisti, quindi abbiamo questo elemento. E notiamo la rappresentazione della donna che è dietro al bancone in attesa dei suoi clienti che facciano un'ordinazione, del bancone, quindi in attesa appunto dei clienti che devono ordinare, quindi si trova dietro al bancone proprio del bar. Vediamo anche la rappresentazione di una natura morta qui, cioè appunto, che è un tema per esempio molto utilizzato, molto caro a Manet, l'utilizzo delle nature morte, e anche quei fiori e poi chiaramente troviamo le bottiglie di alcolici che si trovano chiaramente una accanto all'altra perché sono il bel bancone del bar. E poi però notiamo che c'è un espediente pittorico, un espediente nella composizione che viene utilizzato da Manet, che è quello dello specchio. Vedete che dietro la protagonista, dietro Suzon, troviamo uno specchio, vedete c'è il riflesso, queste sono le bottiglie, che sono queste, e qui questa è la donna di spalle rappresentata nel riflesso. E vediamo anche che in modo anche un po' enigmatico la protagonista, Suzon, si rivolge ad un personaggio che però non è rappresentato in questo quadro. Vedete nel riflesso lei sta parlando con un personaggio che si è avvicinato al bancone del bar. Però noi non lo vediamo qui davanti a Suzon e quindi c'è un espediente interessante perché è come se fossimo noi quel personaggio, perché quel personaggio che si vede nello specchio si trova esattamente dove ci troviamo noi osservatori. Quindi in qualche modo siamo noi quel personaggio che guardiamo Suzon. Anche l'espressione di questa donna è molto particolare perché è un'espressione un po' mista, un po' rassegnata, un po' triste. Quindi l'idea della fatica proprio della sua vita quotidiana nel compiere comunque questo lavoro in questo locale. Quindi abbiamo anche la rappresentazione che è una, la sua espressione è un'espressione anche piuttosto triste, malinconica. Quindi abbiamo anche questo tema di questo personaggio. E poi vediamo che l'ambiente viene spazio, viene completamente dilatato, cioè viene completamente dilatato perché possiamo notare che tramite lo specchio vengono rappresentati gli altri personaggi che si trovano nel locale, quindi i tavoli, appunto vediamo anche questi lampadari, quindi abbiamo poi personaggi seduti ai tavoli, quindi abbiamo una rappresentazione che viene dilatata tramite l'uso dello specchio. Questo è molto interessante, sicuramente un espediente innovativo e anche qui possiamo notare il taglio fotografico della composizione per cui l'opera è come se fosse tagliata in un certo punto, non è come se non fosse, si proseguisse oltre al quadro. Quindi appunto anche qua vedete il personaggio è rappresentato tagliato dal contorno del quadro. Anche qui abbiamo l'impostazione fotografica molto tipica del periodo impressionista e poi questi effetti di pennellate rapide che si evidenziano soprattutto nella rappresentazione dello sfondo con un gioco appunto di luce, qui abbiamo più la rappresentazione della quotidianità di questo locale, di scene di vita quotidiana da parte di Manet. Edouard Manet, il bar delle Folies Berger, quindi una delle sue opere più famose sicuramente e anche quelle in cui si ritrovano tutte le caratteristiche della sua pittura. Vediamo adesso invece un altro artista molto importante associato al fenomeno dell'impressionismo che è Edouard Degas, lezione di danza 1874, conservato a Parigi al Musee d'Orsay, e ci sono tra l'altro molti quadri in questo Museo d'Orsay di Parigi, molti quadri del periodo ottocentesco francese, quindi anche non solo dell'impressionismo ma anche dell'Ottocento francese. E abbiamo lezione di danza, allora abbiamo questo tema, sempre una scena di vita quotidiana e in particolare viene rappresentata per in questo caso un argomento particolare che era molto caro al pittore. Degas infatti è noto per aver ritratto la danza, le ballerine. Lui era molto affascinato da queste ballerine e le rappresentava all'interno dei suoi quadri. Abbiamo lezione di danza che appunto rappresenta una lezione, una lezione di ballo, di danza, che si svolge presso l'Opera di Parigi, grazie a un amico lui poteva entrare a vedere queste lezioni, quindi aveva potuto osservare dal vivo una di queste lezioni di danza. Abbiamo qui il maestro che è intento ad osservare una ballerina, quindi sta esaminando questa ballerina che si esilisce davanti a lui, vedete, e poi ci sono le sue compagne che si trovano tutti intorno. Abbiamo in particolare due ragazze ballerine di stalle, vedete anche la rappresentazione proprio dei loro abiti che danno proprio un'idea di leggerezza, quindi con queste pennellate molto rapide e quasi indefinite abbiamo la rappresentazione di questi abiti che ci danno proprio l'idea di essere degli abiti leggeri da ballerina e notiamo qui la rappresentazione di altri personaggi che si trovano sempre in atto di ballare o comunque di osservare questa esibizione di questa ballerina esaminata dal maestro e notiamo anche qua un'impostazione di taglio fotografico, quindi di tipo fotografico, quindi anche qua vedete la ballerina viene tagliata in due addirittura dalla tela, quindi anche qui il vestito non è completamente rappresentato all'interno dei contorni del quadro, ma va a finire oltre il quadro, quindi abbiamo questo taglio fotografico che è un'innovazione che viene introdotta in questo periodo ed è utilizzato come vedete da molti pittori e quindi questo tema della danza che era molto caro a Degas e che si ritrova in diverse opere fra cui appunto questa che è lezione di danza di Edgar Degas 1874, quindi siamo proprio nel periodo in cui Monet realizza il famosissimo Impressione Sole e Levante un po' dopo diciamo dell'opera di Monet, comunque sempre in quegli anni in cui si afferma il fenomeno impressionista e in particolare possiamo quindi notare anche qui le pennellate rapide, quindi l'idea di cogliere proprio l'essenza del momento, quindi il momento in cui c'è questa esibizione di danza. quindi l'impressionismo è un fenomeno artistico che ha rotto i canoni dell'arte tradizionale, dell'arte accademica, non a caso è stato criticato dai critici d'arte dell'epoca perché non fu subito compresa la portata di queste innovazioni e la nascita della pittura en plein air ha sicuramente favorito lo sviluppo di quest'arte che si basava su composizioni artistiche che dovevano cogliere l'istante e soprattutto i giochi della luce, come la luce si rifletteva sulle persone, come si rifletteva sui paesaggi e questo viene realizzato tramite delle pennellate che sono date da filamenti di colore e non più quindi pennellate nette o diciamo particolarmente neanche macchie, sono proprio dei filamenti di colore, delle pennellate rapide che contribuiscono a dare quest'idea di impressione che noi stiamo osservando un momento irripetibile, quindi viene fissato sulla tela un momento, l'istante, l'effetto di un momento che si realizza all'interno del paesaggio o nella scena di vita quotidiana della borghesia. Quindi queste sono le due tematiche principali, scena di vita quotidiana e paesaggio, effetti della luce sul paesaggio e abbiamo visto come i vari artisti impressionisti affrontano questa tematica, poi la prossima volta continueremo l'impressionismo, se c'è tempo vediamo anche brevemente il post impressionismo, cioè il continuismo, però in generale finiamo l'impressionismo e poi sarà l'ultima lezione di arte, quindi la prossima. Ok, quindi concludo così oggi.